Dopo questa performanza e la formazione di Chelsea, hai scoperto per il tuo lavoro? Hai scoperto per il tuo lavoro? Ti possono essere licenziati dopo quella prestazione? Non lo so, non lo so. Hai dovuto chiedere al club, non lo so. Sono preoccupato per il mio team, sono preoccupato per la performanza. Ma il mio lavoro è sempre a rischio. Non sono preoccupato per il club. Hai dovuto chiedere al club. Grazie. 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 Grazie.